Dal Vangelo secondo Matteo Una buona domenica a tutti. Quindi c'è una concezione del peccato diffusa e molto pericolosa che io colgo spesso, quando durante un corso biblico oppure nell'Omelia, nella celebrazione eucaristica, accenno alla verità centrale del Vangelo, la bella, la grande notizia che soltanto i cristiani annunciano nel mondo, non le altre religioni. E questa grande e bella notizia è l'amore incondizionato di Dio per ogni suo figlio, anche per il più disgraziato, per colui che ha sbagliato tutto nella vita. E quindi anche alla fine, dopo una vita fallimentare, Dio accoglierà comunque ogni suo figlio fra le sue braccia. Questa è una verità innegabile che noi cogliamo nel Vangelo. E il figlio di Dio è venuto in questo mondo proprio per annunciarci questa bella notizia. Eppure non a tutti piace questa bella notizia, difatti spesso dopo gli incontri c'è sempre qualcuno che si presenta e dice Ma allora se Dio non punisce, non la fa pagare a coloro che peccano, allora anch'io comincio a godermi la vita. Bravo! Qui sta la concezione pericolosa, errata del peccato. Cioè che il peccato sia qualcosa di bello, che ti riempie di senso e di gioia la vita. Ma purtroppo Dio lo ha proibito, però alla fine te la fa pagare. Bene, non devi avere paura di Dio, alla fine non te la fa pagare. Tranquillizzati. Chi te la fa pagare adesso, qui, ora, è il peccato. Ti devasta come persona, ti disumanizza, ti può dare un momentaneo piacere, ma è come la droga, che ti offre un momento di ebrezza, ma poi ti riduce a una larva umana. Questo è ciò che ti fa il peccato, non Dio. Ecco la ragione. Per cui il Signore che ti ama ti mette in guardia, ti segnala ciò che non devi fare, perché alla fine tu ti ritrovi meno uomo. Prova a pensare. A cosa ti riducono? La violenza, l'adulterio, il furto, la menzogna. Ti fanno crescere come uomo o ti fanno regredire? Tu cerchi la gioia, la felicità. Questa pulsione c'è la messa a Dio. Tieni presente, se non segui le preziose indicazioni che il Padre del Cielo ti dà, tu sarai sempre fuori strada, non raggiungerai mai la meta cui aspiri. il termine ebraico per dire peccato si dice Hattà, che significa scagliare una freccia ma con un arco allentato. Prova a immaginare di scagliare una freccia con un arco allentato. Tu la scagli ma non arrivi al bersaglio, cade prima, non lo raggiungi. Ecco ciò che tenta di fare colui che pecca, puntare alla gioia, ma sbaglia. E c'è un segno providenziale che ti dice che hai sbagliato. Il dolore, il peccato, lascia sempre la bocca amara perché noi siamo fatti bene, siamo fatti per la gioia e quando uno pecca qualcosa si inceppa dentro di lui e c'è il dolore e questo dolore magari si cerca di anestetizzarlo con distrazioni, evasioni, interessi effimeri, sono tutte droghe. Resta sempre l'infelicità di fondo quando tu pecchi. Eccolo, il pianto estridore di denti, il dolore perché se tu riesci a ritagliarti in un momento di silenzio ti togli quelle benedette o maledette cuffie con cui ti stordisci con queste musiche e non hai paura di ascoltare il tuo intimo, tu senti che comportandoti in modo diverso da ciò che ti suggerisce la parola di Dio tu stai decrettando il fallimento della tua vita, non Dio che ti punisce alla fine, adesso ti distrugge il peccato. E questa è la catechesi che dobbiamo fare a figli, nipoti, non dire Dio ti punirà alla fine, oggi tu stai buttando nell'immondezzaio la tua vita se non segui ciò che ti suggerisce la parola di Dio. Quindi il peccato non fa del male a Dio, lo nota bene Giobbe, se tu pecchi, che male fai a Dio, se moltiplichi i tuoi delitti, gli rechi forse a qualche danno, il peccato quindi nuoce a chi lo fa e poi naturalmente ha delle ripercussioni drammatiche anche su altri fratelli che vengono toccati da questi errori. E quindi non parliamo più di un Dio che castiga l'uomo, che Dio sarebbe, se ha un figlio che si è già fatto del male di suo lui aggiungesse anche la punizione. Questo modo di proiettare in Dio il nostro modo di fare giustizia è blasfemo. Dio ne esce davvero male con un volto mostruoso. Finiamola con queste immagini diaboliche di Dio risentito che castiga chi trasgredisce i suoi comandamenti. Quindi un Dio che si placa solo se gli chiedi scusa. Nei Vangeli mai Gesù dice di chiedere perdono a Dio perché Dio non è toccato dal nostro peccato è toccato il suo amore per noi perché lui soffre nel vedere che siamo andati fuori strada ma il peccato distrugge noi. Adesso mettiamo in conto le nostre fragilità perché tutti facciamo l'esperienza di questo peccato perché tutti noi in certi momenti non ci fidiamo della parola di Dio preferiamo seguire il serpente che è dentro di noi e i suggerimenti di questo serpente. Difatti c'è il detto ogni santo ha un suo passato e ogni peccatore ha un suo futuro. umili quindi nel riconoscere le nostre fragilità e comprensivi anche con le fragilità dei fratelli. Adesso la domanda che fa Dio quando un suo figlio si allontana da lui? La risposta noi la troviamo nel versetto che non c'è nel brano evangelico di oggi ma che si trova immediatamente prima di quello che noi ascolteremo quest'oggi. Voglio farvelo ascoltare. Sentiamo. Il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Che cosa accade una mamma quando il figlio si ammala fisicamente o moralmente? Si preoccupa per recuperarlo immediatamente alla salute quando anche forse per colpa sua che sia malato non le interessa più lei vuole un'unica cosa che lui torni alla vita. È una palida immagine quella della mamma per farci capire quanto il Padre del Cielo che ama infinitamente i suoi figli è preoccupato di recuperare al più presto suo figlio alla gioia e quando riesce a riportarlo sulla retta via che cosa accade in cielo cominciano a far festa dice la prima lettera a Timoteo Dio nostro Salvatore non vuole altro che questo che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità siano salvati non che entrino in paradiso alla fine no lì entrano tutti che siano salvati subito oggi perché è qui che devono essere felici e come attua il Padre del Cielo questo ricupero del figlio che è andato fuori strada direi in due modi anzitutto con il suo Vangelo che segnala continuamente il retto cammino e chi è andato fuori strada viene richiamato da questa parola sulla retta via e poi attraverso i suoi angeli chi sono questi angeli non quelli con le ali no Gesù adesso parla ai suoi angeli molto concreti Angelo nella Bibbia indica chiunque è mediatore delle premure delle attenzioni delle tenerezze di Dio per i suoi figli Dio ha questi mediatori che pone accanto a ognuno dei suoi figli e ci interessano questi angeli perché è proprio a loro che oggi Gesù si rivolge per indicare come devono procedere quali passi fare per recuperare il fratello che è in difficoltà sentiamo il primo suggerimento che Gesù dà a questi angeli se il tuo fratello commetterà una colpa va e ammoniscilo fra te e lui solo se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello qui Gesù non fa un discorso generico sui doveri reciproci no si rivolge direttamente a ogni figlio di Dio con il tu se tuo fratello commette una colpa no se ti ha fatto un torto ti ha offeso no tu non c'entri a te non ha fatto proprio niente qui è lui che sta facendo del male a se stesso non a te cosa sei chiamato a fare il peccato non è una sventura che casca addosso è un male che uno fa cercarsi che uno si sceglie e allora si può arrivare a dire peggio per lui se l'andate a cercare io non c'entro io mi faccio i fatti miei se tu pensi e parli in questo modo tu non sei un angelo se ami tuo fratello che è in difficoltà non puoi più vivere tranquillo perché è in gioco la sua vita troppo spesso noi ci dimentichiamo che esiste il peccato di omissione se tu puoi fare qualcosa per il tuo fratello che è andato fuori strada e non lo fai tu sei responsabile della sua rovina se tu dici sono forse io il custode di mio fratello tu sei il caino non sei un angelo fa attenzione perché se per colpa tua e del tuo disinteresse il fratello si perde non ti libererai facilmente del rimorso per tutta la vita perché Dio ti ha fatto bene ti ha fatto per essere un angelo accanto al fratello come muoversi c'è un errore molto diffuso e che va assolutamente evitato quello di diffondere la notizia l'errore che è stato commesso questo si chiama spettegolare questo è il peccato di diffamazione che può essere un omicidio serve solo a emarginare chi ha sbagliato a umiliarlo a farlo inutilmente soffrire qualcuno pensa che per aver detto la verità lui può mettersi il cuore in pace c'è gente che è affetta addirittura dalla patologia dallo spettegolamento stiamo alla larga da queste persone perché se tu li ascolti poi ti coinvolgono e poi li sentirai che hanno spettegolato anche di te stai attento dice il libro del Siracide un colpo di frusta produce lividure un colpo di lingua spezza le ossa nella mia lingua nella mia terra traducono questo detto del Siracide con un proverbio la lingua non ha ossa ma le spezza la verità che non produce amore e gioia non va detta può uccidere un fratello può rovinare una famiglia può incrinare un rapporto di coppia ancora il Siracide hai udito una chiacchiera muoia con te tienila dentro di te e sta sicuro che non ti fa scoppiare che cosa fare? dice Gesù tu va da solo a trovare tuo fratello tu e lui solo e cerca di convincerlo che si sta facendo del male il verbo elenche in greco convincilo questo primo tentativo è il più delicato il più difficile perché se va male le cose si complicano i passi seguenti diventano più difficili quindi ciò che Gesù chiede al suo angelo è impegnativo ed è anche sgradito perché tutti noi vorremmo andare a dire le cose belle ai nostri amici alle persone che amiamo invece qui si tratta di andare a fare un rimprovero e non è facile trovare le parole giuste il pensiero è quello e se poi sbaglio se imposto male il discorso mi può sfuggire anche una parola sbagliata un accenno fuori posto l'altro si indurisce di più e allora dopo ho anche il cruccio che per colpa mia lui si è chiuso maggiormente e penso che oltre a non aver ottenuto il risultato questo sia anche colpa mia bene Gesù dice queste esitazioni tu devi avere il coraggio di superarle puoi sbagliare devi mettere in conto anche questo anche la perdita di un amico per colpa tua ma tu devi tentare anche con questo rischio in questi casi ti può aiutare il pensiero cosa vorresti che tu facesse il tuo fratello se tu ti trovassi nella sua stessa condizione però può anche andar bene se il tuo amore e la tua abilità riescono a far breccia nel cuore del fratello e tu lo tiri fuori dall'inferno in cui lui è andato a cacciarsi allora tu sei il responsabile della festa che cominciano a fare in cielo e questa è una grande gioia per te sei tu che hai dato inizio alla festa lo dice Giacomo al capitolo 5 della sua lettera fratelli miei se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce costui che ha ricondotto il fratello sul cammino della vita sappia che chi ha ricondotto un peccatore dalla sua vita di errore lo salva dalla morte e copre una moltitudine di peccati anche se lui ha fatto degli sbagli nella vita ma essersi comportato da angelo con un fratello lo fa recuperare da tutti gli errori che ha commesso però il primo tentativo può anche andare male che cosa fare sentiamo se non ti ascolterà prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni se poi non ascolterà costoro dillo alla comunità e se non ascolterà neanche la comunità sia per te come il pagano e il pubblicano il primo tentativo non ha avuto successo allora che cosa faccio mi metto il cuore in pace io ho tentato mi è anche costato mettermi di mezzo è andata male pazienza le cose non funzionano così per Gesù di Nazareth se tu ami il fratello tu non lo puoi abbandonare al suo destino e Gesù ti suggerisce il secondo passo da fare non è bastato un angelo ce ne vogliono due forse anche tre infatti Gesù dice trova un amico o due stimati dalla persona che è in difficoltà e poi andati insieme a trovarlo attenzione non deve avere l'impressione che lo volete mettere alle strette umiliare condannare no lui deve percepire che ha a che fare con tre angeli tre amici che sono venuti a trovarlo perché lo stimano gli vogliono bene che lo difenderebbero se sentissero qualcuno che spettegola in loro presenza lo levano da terra lo mettono a tacere in malo modo e poi anche davanti alla comunità loro lo difenderebbero testimonierebbero che è una persona di grande valore adesso è un momento di difficoltà ma a buone disposizioni ecco può andar bene è difficile ma può avere successo questo secondo tentativo e allora ricomincia la festa in paradiso può andar male e allora c'è il terzo passo da fare ed è suggerito da Gesù dillo alla chiesa alla comunità perché il cristiano non è un individuo isolato che vive la sua spiritualità la sua pratica religiosa pensando a se stesso no è un membro della comunità inserito nella chiesa col battesimo e tutta la chiesa quindi è coinvolta nella salute di questo membro malato e deve intervenire non è pensabile però che la comunità si proponga di liberarsi di liberarsi al più presto di questo elemento di cui si vergogna che lo scomunichi a causa delle sue idee dei suoi discorsi anti-evangelici o dei suoi comportamenti immorali no nessun cristiano può mai arrivare a dire ma che si arrangi che se ne vada per la sua strada che si tiri fuori dai piedi e si arrangi no mai queste espressioni perché la chiesa è l'ultimo intervento il più forte per recuperare il fratello si può quindi arrivare anche ad operare parole dure ma non per punirlo per fargli prendere coscienza della sua condizione in cui si è andato a cacciare la comunità deve richiamargli la serietà degli impegni battesimali deve dirgli se ti comporti in questo modo se tu segui la logica del mondo tu sei fuori dal regno dei cieli e devi saperlo è necessario che qualcuno te lo dica che ti ricordi che certe scelte ti collocano fuori dalla comunione con la comunità può avere successo nella loro festa in paradiso ma può andare male anche questo terzo tentativo e allora che cosa fare? Gesù dice considerarlo come un pagano e un pubblicano ecco questa espressione così come suona a noi non ce l'aspetteremo sulla bocca di Gesù invece è bellissima come tra poco vediamo la comunità non deve prendersi cura solo di questo membro malato ma anche di tutti i fratelli molti dei quali sono deboli nella fede e possono essere scandalizzati dalle idee o dal comportamento di questo fratello che si colloca ai margini cosa fare? le scelte pastorali della Chiesa sono state diverse lungo i secoli nella Chiesa dei primi secoli si procedeva in modo piuttosto rigoroso chi assumeva comportamenti immorali disdicevoli in modo grave veniva cacciato dalla comunità scomunicato ricordiamo il caso del dissoluto di Corinto di cui ci parla la prima lettera ai Corinzi quando Paolo dice c'è nella vostra comunità uno che si comporta in modo così immorale che nemmeno si ritrova questa immoralità fra i pagani cacciatelo via dice consegnatelo a Satana perché si salvi cioè vedete che anche Paolo dice la scomunica ha come obiettivo il ricupero perché si salvi così pure se qualcuno falsifica il Vangelo va ripreso pubblicamente nella lettera a Tito dice l'eretico dopo una o due ammunizioni e speglilo perché perché disorienta la comunità e la comunità non può certo tollerare che qualcuno in nome di Cristo predichi delle dottrine insensate o insane difatti nella seconda lettera ai tessalonicesi dice se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo per lettera prendete nota di lui e interrompete i rapporti perché si vergogni non trattatelo però come un nemico ma come un fratello va ammonito ecco qui si coglie la ragione della scomunica non per togliersi dai piedi una persona che infastidisce ma per recuperare il fratello per fargli comprendere la gravità della sua situazione e cosa significa trattarlo come un pagano e come un pubblicano beh noi sappiamo come gli scribi e i farisei avevano togliato i ponti con i pagani che consideravano e chiamavano cani e con i pubblicani che ritenevano la feccia della società gente immonda destinata alla perdizione questo era il modo come trattavano pubblicani e peccatori i farisei gli iscrivi non Gesù Gesù non si rapportava così con i pagani e i pubblicani lui era chiamato l'amico dei pubblicani e dei peccatori e si raccomanda di trattare questo fratello che è in difficoltà come si trattano i pubblicani e i peccatori lui intende dire come li tratto io i pubblicani e i peccatori non gli scrive i farisei voi dovete rapportarvi con quel fratello in difficoltà come io mi rapportavo con i pubblicani e i peccatori che erano i miei migliori amici perché erano quelli che avevano più bisogno del mio amore è chiaro l'invito di Gesù a stare ancora più vicino a queste persone in difficoltà perché essendo deboli hanno bisogno di maggiori attenzioni del massimo dell'amore e ora ascoltiamo le raccomandazioni che fa Gesù alla comunità in verità io vi dico tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo abbiamo ascoltato una promessa solenne che Gesù ha fatto alla comunità dei suoi discepoli ha detto ciò che voi legherete o scioglierete sulla terra sarà legato o sciolto anche in cielo da Dio legare e sciogliere era il linguaggio con cui i rabbini intendevano l'autorità di decidere ciò che è lecito e ciò che è proibito ciò che è conforme alla Torah ciò che è proibito dalla Torah ciò che è giusto ciò che è sbagliato ciò che si può ciò che non si può fare questo lo decidevano i rabbini erano loro che legavano o scioglievano adesso dice Gesù questo diritto di dichiarare ciò che è lecito ciò che è evangelico ciò che è proibito ciò che è anti-evangelico ce l'ha tutta la comunità dei miei discepoli Gesù ha già fatto a Pietro questa promessa adesso sta dicendo che questa responsabilità non è solo di Pietro del Papa delle gerarchie ecclesiastiche no questa responsabilità è di tutta la comunità dei discepoli tutta la comunità mossa dallo Spirito deve saper discernere fra ciò che è evangelico e ciò che è contrario al Vangelo e l'umanità è in diritto di aspettarsi dalla voce di questa comunità ecclesiale l'indicazione su ciò che umanizza e ciò che disumanizza una persona ciò che è conforme e ciò che è difforme dalla parola del Maestro è una grande responsabilità che ha la Chiesa perché può essere aperta alla voce dello Spirito ma può anche chiudere le orecchie a questa voce e aprire invece le proprie orecchie ai suggerimenti del maligno alla voce della mondanità e allora la Chiesa invece di annunciare la verità potrebbe annunciare la menzogna che le è suggerita dal maligno dalla logica di questo mondo come purtroppo sappiamo è capitato tante volte nella storia della Chiesa e allora coloro che si aspettano la voce di verità dalla Chiesa vengono portati fuori strada la ritenevano depositaria del Vangelo e della parola di Gesù di Nazareth invece aveva chiuso le orecchie e il cuore a questa voce e le aveva aperte invece alla logica alla sapienza di questo mondo e quindi questa promessa solenne che Gesù ha fatto un motivo di ripensamento di revisione della nostra vita perché è una responsabilità grande della Chiesa di tutta la comunità che potrebbe portare fuori strada coloro che si fidano della sua parola e dopo questa promessa Gesù fa una raccomandazione con cui si chiude il brano evangelico di oggi sentiamola in verità io vi dico ancora se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa il Padre mio che è nei cieli gliela concederà perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome lì sono io in mezzo a loro al tempo di Gesù come anche oggi c'erano due forme di preghiera la preghiera comunitaria quella che era fatta nella sinagoga e la preghiera personale quella che Gesù raccomanda di fare nella propria stanza quando tu dialoghi con Dio dopo aver chiuso la porta e queste due preghiere vanno tenute distinte anche oggi noi vediamo certi cristiani che sono riuniti per la preghiera comunitaria nel giorno del Signore e poi mentre tutti cantano c'è qualcuno il quale è ripiegato su se stesso che pensa al proprio dialogo con Dio a presentargli i propri problemi no questo tu lo fai quando sei nella tua stanza quando sei riunito alla comunità la preghiera è comunitaria se i fratelli cantano tu canti insieme con loro ci chiediamo adesso come mai viene il richiamo della preghiera comunitaria in questo contesto la prima ragione è che la comunità si trova a dover risolvere il problema di un fratello che è andato fuori strada che non vive secondo il Vangelo e nella preghiera dice Gesù che la comunità si sente unita è disponibile a fare le scelte giuste quelle che suggerisce il Signore e il Signore ti parla proprio quando sei in questi momenti di preghiera e la comunità è mossa e ascolta insieme la voce dello Spirito e ancora è nella preghiera comunitaria che si chiede al Signore la luce la luce per saper discernere fra ciò che va legato e ciò che va sciolto perché la tentazione potrebbe essere quella di ascoltare il ciò che fanno tutti ciò che tutti decidono che deve essere legato o che deve essere sciolto no la comunità cristiana nella preghiera ascolta la voce dello Spirito e allora decide in modo che è confermato anche in cielo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato se non prega la comunità finisce inevitabilmente per dare indicazioni errate quelle dettate dalla logica della mondanità questo momento di preghiera comunitaria è presentato qui con un verbo greco molto bello sinfonē mettersi d'accordo sinfonē significa fare sinfonia la comunità che fa sinfonia cioè la sinfonia è quel momento nel quale ogni strumento suona bene la propria parte fare sinfonia nella Chiesa non significa che tutti devono suonare lo stesso strumento no non siamo uguali il Buon Dio ci ha fatti diversi per fortuna perché proprio perché siamo diversi possiamo suonare bene ognuno il nostro strumento nell'unico spartito che è quello dell'amore è l'armonia di questa comunità il miglior richiamo per il fratello che si è allontanato e deve sentire questo fratello la nostalgia di questa comunità dove tutti fanno sinfonia suonano lo spartito dell'amore si scambiano reciprocamente il servizio dell'amore concludendo Gesù assicura che la preghiera fatta così sarà certamente esaudita Dio concederà alla comunità di superare tutte le divisioni le separazioni e di ottenere la riconciliazione e il ricupero di quei fratelli che sono in difficoltà auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.